Musica Buonasera, buonasera da Onda di Gimbreo, piano subito la cronaca all'indomani di questo fine settimana violento. Due giovani picchiati a suon di pugni e a sangue in pieno centro storico, trasportati in ospedale uno con una prognosi di 21 giorni provvisoria, si dovrà sottoporre un intervento chirurgico maxillo facciale, probabile ricorso al prefetto per affrontare il problema della movida sul piano sociale. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Due feriti di cui uno con una prognosi che supera i 20 giorni, un'inchiesta a scattare ad ufficio, le chiazze di sangue ancora visibili sui portici ricorso video, la possibile richiesta di un tavolo con il prefetto dell'Aquila. All'indomani dell'ennesima notte violenta in centro storico si cerca di inquadrare e affrontare la movida, se così si può definire, sul piano sociale. Da Palazzo San Francesco stanno meditando la richiesta di un tavolo con le forze dell'ordine per incrementare i controlli e passare dalla prevenzione alla repressione, soprattutto in riferimento ai possibili fattori scatenanti, ovvero ai soliti fenomeni che nel periodo post-pandemia hanno subito una recrudescenza. Affronteremo la questione nelle prossime ore per bagliare le opportune misure, non escludiamo di chiamare in causa il prefetto, afferma il vice sindaco Franco Casciani. Il problema della sicurezza tuttavia è di diretta competenza principalmente del sindaco che nelle prossime ore si esprimerà riguardo, nonché del dirigente del commissariato PS. Il comune recentemente ha adottato il piano acustico, che resta in attesa delle osservazioni per passare alla fase attuativa. Resta il mulnus su fronte della disciplina del popolo della notte. Intanto i carabinieri di Sulmona stanno procedendo ad acquisire filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire tutti i passaggi dell'ultima lite che esplosa quando la serata si era già chiusa, con musica spenta, locali chiusi e avventori ridotti al minimo. In verità qualche discussione, non degna di nota, era cominciata nei pressi di un locale. Intorno alle 3.50, stando a quanto riferito da alcuni avventori. Poi la degenerazione nei portici della Trinità. Sarebbero volate parole offese fino all'aggressione a Sondipugni. Ad avere la peggio è stato un 24enne sul Monese trasportato in ospedale per aver rimediato la frattura del setto nasale, giudicata guaribile con una pronnisi provvisoria di 21 giorni. Nelle prossime ore si svolgeranno ulteriori consulenze per valutare un intervento chirurgico. A sferrare il pugno in pieno volto sarebbe stato un giovane di etnia Rom che sarebbe intervenuto in seguito da alcuni epiteri pronunciati da un gruppo di giovani, nonché per difendere un suo amico che era stato aggredito con un pugno qualche ora prima. Insomma una catena di violenza che ha fatto soccombere il 24enne malmenato per futili motivi, ovvero senza un perché. L'avversione dell'aggressore d'altronde non trova riscontro investigativo, peraltro nella lite sarebbe rimasto ferito anche un altro giovane, rimediando un importante trauma cranico. All'arrivo di polizia, carabinieri, guardie di finanza, aderzari da una residente, molti dei presenti, aggressori compreso, si sarebbero dileguati tanto per rendere difficile la ricostruzione dell'episodio vista la solita reticenza. Fondamentali, si spera, saranno le telecamere, una brutta pagina di cronaca che fa riemergere un problema sociale non più trascurabile, in ordine alla pericolosità di taluni soggetti, al di là delle singole responsabilità che saranno scandagliate nelle sedi opportune, anche perché l'indagine prevede la procedibilità d'ufficio senza necessità di querela di parte. Fino al 2019 la squadra di polizia giudiziaria ha dato risposte significative in tal senso, con indagini mirate e arresti tramite visione delle immagini, conoscenza del territorio, fiducia nelle persone. La parola chiave quindi che risuona dei più fronti è repressione, d'altronde se si ravvisa una possibile violazione del tasto urbano vuol dire che la giustizia non può e non deve solo prevenire, ma anche reprimere. Intanto prima di decidere se chiedere o meno un tavolo al prefetto, il sindaco della città Gianfranco Di Piero ha convocato per mercoledì mattina a Palazzo San Francesco un tavolo con le forze dell'ordine, le forze di polizia per valiare alcune misure, proprio per quello che dicevamo, passare dalla prevenzione alla repressione del fenomeno. Intanto il cerchio delle indagini si stringe intorno ai soggetti, in particolare a uno di loro, per cui si ravvisa una probabile violazione del tasto urbano, che potrebbe portare l'autorità giudiziaria a pensare a misure più restrittive, almeno per un giovane di Etteria Rom. Ma seguiremo ovviamente gli sviluppi della vicenda. Ancora la cronaca, turista dispersa, trovata senza vita in località montagna spaccata, era stata colta da un malore. Sentiamo nel nostro servizio. Una donna di 66 anni, originaria di Ostia, Antonella Di Falco, è morta nella serata di eri nei pressi del lago della montagna spaccata, nel pianoro di Campitelli, sul territorio comunale di Alfedena. A quanto si è appreso la donna al momento dell'incidente, era sola e stava facendo la legna, è stata trovata a terra con una ferita alla testa, molto probabilmente conseguente alla caduta dopo un malore. A dare l'allarme è stato il suo compagno, che non vedendola tornare, ha chiesto l'aiuto ai carabinieri della compagnia di Casteldisangro, i quali a loro volta hanno attivato il protocollo dei soccorsi in montagna. I due erano in vacanza ad Alfedena. Dopo ore di ricerca l'hanno provata in serata, verso le 21. Nei primi riscontri sembrerebbe che la donna sia morta in seguito all'improvviso malore, poi sia scivolata sul piano scosceso. Non sarebbero stati trovati altri segni sul corpo, solo un taglio alla testa che si sarebbe procurata durante la caduta, tant'è che il magistrato di turno ha rilasciato in un laosta per la celebrazione delle seguie. La vacanza da incubo per un giovane sulmonese a Senigallia, 500 metri da noi, l'apocalisse, ha raccontato ai microfoni di Onda TG. Sentiamone il nostro servizio. Siamo in salvo perché ci troviamo nei pressi del lungomare, ma la vacanza si è trasformata in un incubo. Il torrente che si è alzato di 3-4 metri in 30 minuti, il telefono che squilla in continuazione la paura che possa ricominciare a piovere, il racconto di Giovanni, nome di fantasia, giovane sulmonese di 30 anni, si inserisce nello scenario apocalittico di Senigallia. Il comune in provincia delle Marche che è stato letteralmente fragellato dal maltempo degli ultimi giorni. 11 vittime, 3 dispersi, un bilancio che sale, fa caponare la pelle, macchine trascinate via dall'acqua, decine di persone intrappolate, case, locali commerciali invasi dall'alluvione, corsi d'acqua e sondati, alberi abbattuti, frane, blackout, l'allerta non è ancora cessata. Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17, si è affacciato il sole a dare sollievo ai cuori. Una speranza di archiviare questa drammatica esperienza. Siamo venuti in vacanza a metà settembre, proprio il giorno prima dell'alluvione, abbiamo visitato il centro storico. Fortuna che la nostra zona non è stata colpita, ma abbiamo vissuto giorni di panico, sapendo che a 10-15 minuti a piedi da noi c'era l'apocalisse, racconta il sulmonese. Ho trovato una ventina di chiamate perse da casa, abbiamo trascorso il tempo a consultare il meteo e a scutare l'orizzonte dalla finestra. Finalmente ora, un po' di sole, una vacanza, insomma, non proprio da incorniciare. La cronaca ci riporta a Sulmona, stavo portando il mastello fuori la porta di casa, si è difeso così il 49enne, arrestato per evasione, per avere evasso, cioè la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha convalidato l'arresto eseguito in fragranza di reato dai carabinieri, ma ha revocato la misura cautelare. Facciamo il punto nel nostro servizio. Stavo portando il mastello del vetro al di fuori della mia abitazione, quando la pattuglia dei carabinieri mi ha fermato. si è difeso così davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Marta Sarnelli, 49enne di origine siciliana, tratto in arresto lo scorso sabato in fragranza di reato per l'evasione dalla detenzione domiciliare. Il giudice ha convalidato l'arresto eseguito dei militari su disposizione del PM, ha revocato la misura cautelare all'estito dell'odienza di convalida celebrata questa mattina in tribunale. Il 49enne, che era stato condannato per associazione a delinquere, deve scontare la pena arrestita di quattro mesi. Dopo specifica segnalazione nonché denuncia, è stato fermato le carabinieri nei pressi della sua abitazione in violazione della detenzione domiciliare. Per l'avvocato difensore, Maria Grazia Lepore, il suo assistito stava semplicemente portando il mastero della differenziata al di fuori della propria abitazione, per cui la condotta posta in essere non avrebbe configurato un'evasione. Il 49enne torna in detenzione domiciliare dal momento che il GIP ha revocato la misura cautelare applicata in fraganza di reato pur convalidando l'arresto eseguito dai militari, concedendo i termini a difesa rinviato al prossimo 13 ottobre per la celebrazione del rito direttissimo. E ora torniamo alla vicenda della vulnerabilità del litio, edificio che ha riaperto le porte parzialmente nel corpo centrale. Sulla vulnerabilità, il consigliere comunale Vincenzo Margiotta ha chiesto una commissione di inchiesta. Sentiamo. La nomina di una commissione comunale di inchiesta sulla vicenda dell'edificio Itis di Prato La Perigna è stata formalmente chiesta dal consigliere comunale Vincenzo Margiotta, sindaco Antonella Di Nino. Margiotta, che non molla la presa sull'argomento, facendo riferimento allo strutto del comune, propone l'istituzione della commissione per far luce sulla vicenda dell'inagibilità dell'edificio scolastico, almeno su una parte, sui relativi documenti. Ciò, a mio parere, è opportuno discutere a più presto e soprattutto utile nell'interesse di tutta la popolazione che chiede l'UMI su una vicenda che definire oscura è un affemismo. Margiotta ha chiesto che la sua proposta sia inserita all'ordine del giorno della saluta di un consiglio comunale da convocare di nuovo sul caso. Intanto, oggi, Liti ha riaperto con il corpo centrale utilizzabile come venuto fuori dai carotaggi. il Polo non ha rinunciato alla cerimonia nonostante la scuola sia praticamente interdetta nelle scale, nei laboratori e nella palestra. Nel frattempo, il trasloco per il Denino Morandi ancora è scattato materialmente perché per le prossime ore la provincia affiderà l'incarico che doveva essere affidato oggi, non proprio un tempismo. Termina qui la prima parte di Onda Rigi. Torniamo tra poco con le nostre notizie. alla prossima Riconquista la tua serenità e vivi di nuovo tutte le emozioni della vita. Fonia apparecchi acustici e il tuo udito non sarà più un problema. Contattaci allo 0864 56 63 97 e insieme troveremo la soluzione più adatta alle tue esigenze. Visite assistenze gratuite anche a domicilio e prova dell'apparecchio per 30 giorni. Fonia professionalità e innovazione al servizio del tuo udito. Via Giovanni Panza 2 sul Mona www.acusticafonia.it 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 La cortesia del personale La convenienza e l'efficienza dei servizi fanno di Punto Brico Raiano la miglior soluzione per il fai da te. Da Punto Brico Raiano trovi attrezzature professionali e hobbistica, arredo giardino, ferramenta, illuminazione, riscaldamento, legnami e falegnameria. Punto Brico ti aspetta nella zona industriale a Raiano. Il tuo punto di riferimento nella Valle Peligna per il fai da te. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Seconda parte di Onda di Giri partiamo dallo scenario post emergenza con il virus che raddoppia ma si allenta sempre più la diffusione del Covid sul comprensorio perinio sangrino. Sono 16 le positività confluite nel referto del lunedì. Facciamo il punto nel nostro servizio. Raddoppia il virus in termini statistici ma il contagio resta abbastanza contenuto sul territorio perinio sangrino. Sono complessivamente 16 le positività che confluiscono nel bollettino del lunedì. comprese 4 reinfezioni di cui 3 riferite la giornata di ieri distribuite in soli 6 comuni del comprensorio, 6 a Sulmona, 4 a Roccaraso, 2 ciascuno a Castel di Sangro e Campo di Giove, 1 a Scanno e Prato la Peligna. Un nuovo potenziale focolaio è divampato nel centro di Roccaraso che ha fatto registrare ben 10 positività nelle ultime 48 ore. Se è vero che rispetto allo scorso lunedì, quando erano stati registrati appena 7 casi, le elevazioni sono quasi raddoppiate, la diffusione del virus risulta sempre più contenuta. Il Covid è infatti allentato alla pressione con la riduzione della lista dei comuni colpiti dal contagio. Complessivamente sono 1.171 le attuali positivi sul comprensorio, a fronte di appena 3 degenti, tutte ricoverate in area non critica. Se la curva epidemiologica reggerà o meno all'effetto autunno e alla ripresa delle attività ridattiche, si vedrà nelle prossime settimane. Ora veniamo alla cronaca giudiziaria con l'accusa ritentata estorsione a supporto una registrazione. Intanto l'avvocato difensore, uno degli avvocati, ravvisa una possibile violazione del diritto di difesa. Si apre pure il filone disciplinare. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Bufera politico-amministrativa per l'inchiesta sulla tentata estorsione di rivisondoli, che coinvolge sindaco, vice sindaco e avvocato dell'ente, raggiunti l'altro giorno da misura catelare dell'obbligo di firma. In attesa dell'interrogatorio di garanzia, che sarà fissato a giorni, si apre il filone disciplinare che scaturisce dell'inchiesta. Due aver recepito l'intera documentazione dell'autorità giudiziaria, il Consiglio dell'Ordine Forense procederà a trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina per gli adempimenti del caso. Il procedimento disciplinare non ha nulla a che vedere con la misura interdittiva, disposta con ordinanza del GIP, che prevede per l'indagata la sospensione temporanea dell'esercizio della professione e il diveto di contrarre con la pubblica amministrazione. Secondo Procure e Carabinieri, la tentata estorsione contestata tra indagati Si configura nella richiesta della somma di 20.000 euro circa a 5 soggetti partenopei, che sarebbe stata necessaria al rilascio di un'autorizzazione per l'occupazione di una parte di solo pubblico, già impegnata nella realizzazione di una scala di accesso a un immobile di proprietà delle vittime. La costruzione del manufatto, di cui era stata chiesta la regolarizzazione, ha innescato nel recente passato un diverso condenzioso giudiziario tra le stesse parti in causa, conclusosi poi con la pronuncia del giudice a dito a favore dell'ente pubblico e con la relativa condanna delle controparti a risarcimento delle spese e del danno recato all'ente. Anche il filone amministrativo, con l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione emanata dal Comune e della deliberazione del Consiglio Comunale, si è chiuso in favore dell'ente, ragion per cui, prima di sicilare un accordo, il sindaco Giancarlo Iarussi, il vice Roberto Ciampaglia e l'avvocato dell'ente hanno chiesto ai soggetti nepoletani di corrispondere a favore dell'ente la somma di 20.000 euro circa, derivante dall'accumulo delle spese di lite. Per gli investigatori, i tre indagati non avrebbero seguito l'itere amministrativo e i partenopei avrebbero anche prodotto una registrazione a supporto della tentata estorsione, da qui l'apertura del fascicolo, la necessità delle esigenze cautelari. Intanto l'avvocato Pietro Savastano, quale difensore del vice sindaco, ravvisa una presunta violazione del diritto degli indagati. Il mio cliente è sereno e molto fiducioso di poter smontare non solo la ricorrenza della necessità della misura cautelare, ma anche di poter provare l'assoluta inconsistenza del reato contestato attraverso una cospicua documentazione a sostegno delle sue ragioni. Secondo i termini processuali, nei prossimi giorni impugneremo il provvedimento davanti al Tribunale dell'esame. Già che ci è preclusa la visione del fascicolo della Procura della Repubblica, in cui sono contenute le attività investigative svolte, allo Stato non possiamo avanzare ulteriori considerazioni. Siccome l'ordinanza cautelare è stata notificata venerdì 16 settembre, occorrerà attendere le prossime ore per accedere agli uffici, notoriamente chiusi durante il sabato e la domenica, e tanto a ulteriore compressione dei diritti della difesa. Insomma, si andrà a fondo. E ancora la cronaca di Sulmona, cade dal monopattino e finisce in una scarpata brutta disavventura per un 24enne del posto. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Si è reso necessario il trasferimento nell'ospedale dell'Annunziata di Sulmona con un'ambulanza recente 18 per un 24enne sulmonese dipendente di un'attività in centro storico, che nel pomeriggio di sabato scorso è caduto mentre transitava con il suo monopattino lungo il viale della stazione finendo in una scarpata. Una brutta, rovinosa caduta che ha fatto scattare la segnalazione al numero di emergenza del 118. Anche i passanti sono spaventati per quanto accaduto. Trasportato in ospedale, il giovane è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, tenuto in osservazione per una giornata per via delle scurazioni riportate, anche se non sarebbero emerse lesioni gravi. Per cui è stato dimesso nella mattinata di ieri. Una disavventura bella e buona che fortunatamente non ha portato a particolari conseguenze per il giovane in questione. Multato dieci volte in tre mesi per sosta selvaggia. Balza le cronache, il caso di un giovane di Sulmona, repressione ma anche proteste nel quartiere di Largo Mazzara. Sentiamo meglio. Da giugno a settembre ha collezionato la bellezza di dieci contravvenzioni per aver parcheggiato la propria vettura in diveto di sosta. Tutte multe da 60 euro ciascuna all'incirca. A Balzara, alle onori della cronaca, è un giovane sulmonese residente in Largo Mazzara che nella giornata di ieri ha preso in carico l'ennesima contravvenzione combinata dalla polizia locale che sta portando avanti lo scacco alla sosta selvaggia. Dalla prevenzione si è passati alla repressione per ricostruire il volto di una comunità civile. D'altronde nelle scorse settimane il Consiglio Comunale ha fatto proprio un ordine del giorno volto a mitigare un fenomeno diffuso sull'intera città. Tuttavia il ritorno della municipale nei quartiere ha generato vibranti rimostranze tra i residenti della zona con urla e proteste. Non di certo per le sanzioni combinate ma per una serie di criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Carenza di parcheggi Largo Mazzara, segnaletica in alcuni punti illegibile, vita notturna senza controllo alcuno, nonostante le ripelute segnalazioni, presunti abusi di passi disabili. Le multe vanno fatte ma dobbiamo pure tutelare la residenzialità. È evidente che questo quartiere largo di nome ma stretto per planimetria viene utilizzato dai residenti per la sosta. Vista la distanza non siamo noi a dover fruire del parcheggio di Santa Chiara. Il Comune dice di voler tutelare i residenti. In questo modo rischiamo di far spopolare del tutto il centro storico e la città, fanno notare dal quartiere. Quanto alle multe combinate vale la pena ricordare la famosa dicitura latina Dura l'ex, sed l'ex. Ora veniamo alla politica con il ritorno di Luciano D'Alfonso a Sulmona nello sprint della campagna elettorale Un Abruzzo a una sola velocità ha ribadito l'ex governatore. Il ritorno a Sulmona di Luciano D'Alfonso in questo sprint della campagna elettorale per le elezioni di domenica prossima 25 settembre. Ecco il PD ma la politica in generale da dove deve ripartire vista questa disaffezione? Intanto dai valori del territorio. Il territorio di Sulmona è bello e accogliente, ha da dire e ha da dare. Ci sono le risorse finanziarie rilevanti, quelle del PNRR. Ci sono le leggi, ci sono i poteri adesso servono le idee e serve la classe dirigente. Io la mia parte la voglio fare per aiutare Sulmona a riprendere il suo cammino e la sua velocità. Sulmona lo merita per chi vive a Sulmona ma Sulmona è anche un'attrazione una grande forza di attrazione a favore di tutta la regione. A proposito di velocità soprattutto l'Abruzzo è sempre stato a due velocità non nascondiamoci se trovo un dito tra costa e aria interna. Luciano D'Alfonso come si farà garante per accorciare queste distanze? Intanto io sono nato in un piccolo paese alle falde della Maiela dove ho fatto anche il consigliere comunale. Capisco e conosco la montagna e le terre alte e so quanto dà la terra ferma la terra alta anche alle città di mare della costa. Non esiste un Abruzzo tagliato a metà che ce la faccia. Esiste un Abruzzo non solo intero ma addirittura che si allea con il Molise e qui la funzione di Sulmona che si allea con il Lazio e qui la funzione della Piana del Cavaliere una regione che si allea anche con le Marche e di qui la Vallata della Vibrata. Noi dobbiamo concepire un grande progetto che esalti l'Abbadia per esempio il centro storico la vostra zona industriale la ZES facendo in modo però che poi ciò che noi affermiamo come flessibilità come strumenti straordinari davvero vengano praticati a favore delle imprese. Fare impresa deve essere facile a Sulmona ce la possiamo fare perché le reggi lo consentono. Saremo il cane da guardia del Paese e la ricetta di Gianluca Paragone di Talexit che presenta a Sulmona il nuovo patto per il Paese. L'intervista. Talexit il cane da guardia dell'Italia è un'immagine che è venuta fuori proprio nel comizio della centralistica Piazza 20 Settembre a Sulmona in questo sprint finale verso le elezioni del 25 Settembre. Sarà un cane che abbairà o che terrà sotto controllo il Paese? No, che azzanna perché mi sa che qua il fatto di vedere i diritti del lavoro e le libertà fondamentali messi in discussione necessita di un cane che azzanni quindi un buon cane da guardia che non sia un cane da salotto cane da salotto con le finte opposizioni le abbiamo già visti. La nostra sfida è far capire che ci sono multinazionali di finanza reti di solite famiglie che schiacciano dall'alto i cittadini ed è così destra e sinistra è una vecchia categoria. Ecco sono dato il nome ai traditori in tanti hanno tradito questo vuol dire che serve un nuovo patto con i paesi e con gli italiani che patto volete siglare? Il patto è molto semplice basta ripristinare il pieno senso dei diritti e delle libertà non esiste al mondo che tu debba ostentare un green pass per andare a lavorare o che al lavoro tu sia discriminato sulla base di un obbligo vaccinale quindi il patto è basta rispettare le regole basta rispettare una costituzione che non prevede una discriminazione come quella che abbiamo visto. La transizione energetica è la prova dell'interurbano questo è il filo conduttore di un convegno con la tua che si è svolto nei giorni scorsi ce ne parla nel servizio che è denotrigilio. La transizione energetica alla prova dell'interurbano è questo il titolo del convegno a carattere nazionale che si è svolto nei giorni scorsi nella sede della tua società unica abruzzese di trasporto società per azioni a Pescara al quale hanno partecipato i principali player e costruttori del panorama del trasporto italiano. Ad aprire i lavori il presidente della Tuba Gabriele De Angelis Oggi è un convegno importante per noi perché intanto abbiamo come ospiti i maggiori produttori i costruttori di mezzi da trasporto che abbiamo nel nostro paese quindi tutti uniti per affrontare questi temi temi strategici per il futuro nella prospettiva di ogni azienda perché c'è un cambiamento radicale che va verso una modernità verso lo sfruttamento di energie rinnovabili e per far questo percorso dobbiamo contemperare in maniera molto attenta sia i costi che le varie fasi diciamo di produzione per arrivare il più possibile velocemente all'obiettivo finale. Al convegno hanno dato il proprio contributo tra gli altri il direttore tecnico della tua Paolo Sportiello il responsabile dell'ingegneria della manutenzione automobilistica TPR Marco Galletti il direttore ricerca e sviluppo di industria italiana autobus Luca Corribiola il direttore commerciale di Solaris Italia Riccardo Cornetto e molti altri. Al momento abbiamo acquistato per esempio 100 pullman a metano che sono gli unici mezzi per l'utilizzo di extraurbano e suburbano che sono finanziati da trasferimenti governativi e abbiamo acquistato il metano perché in questo momento abbiamo la possibilità più che l'idrogeno per esempio di preparare le stazioni per i rifornimenti e organizzare al meglio la logistica è un lavoro in progressione perché dovremmo arrivare a energie insomma ancora più innovative ma in maniera graduale. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Strepitoso successo del circolo Scacchi sul Mone a campionato promozionale Cis Abruzzo tenutosi a Grand Hotel Adriatico a Monte Silvano da 16 al 18 settembre ovvero questo weekend la squadra di Sulmona composta da capitano Lucio Antonini dei giocatori Luigi Vacca Marco Di Cesare Raimondo Carretta Paolo Vitelleschi Leonardo Pizzica ha vinto il girone Abruzzo totalizzando complessivamente 10 punti su 10 disponibili per squadra e 17 punti su 20 disponibili per scaccheria e sarà quindi promossa in Serie C per la gioia l'entusiasmo l'apoteosi dei sostenitori e l'anno prossimo cercherà anche di conquistare perché no la Serie B congratulazioni e complimenti sono giunti alla squadra dai membri dell'organizzazione e da tutte le autorità e maestri scacchistici a livello nazionale che erano presenti pure all'evento una bella vetrina da anni non si assisteva a un simile esploat nel vero senso della parola sul Monascacchi e senza dubbio l'orgoglio della città e a proposito di sport il Sulmona Rugby che riapre le porte con l'Open Deg a Dano Tregilio sul campo di rugby dell'incoronata sul Mona proseguono le iniziative promosse ed organizzate dall'associazione sportiva sul Mona Rugby per la ripresa delle attività l'attenta dirigenza da tempo si rivolge anche alle scuole per offrire ai più piccini un'attività sportiva che aiuti i bambini a crescere sia fisicamente che sotto il proprio psichico i bambini vengono molto volentieri oggi ne sono penso una quindicina che sono venuti nelle varie fasce poi piano piano crescono i ragazzi quando vengono i bambini i bambini si divertono i bambini li metti la palla in mano si divertono molto forse si divertono un po' meno le mamme noi ormai li siamo diventati forse l'unico sport all'aperto che facciamo attività su un campo di erba di erba vera non erba sintetica e questo magari può portare qualche disagio perché poi i bambini quando torneranno a casa la sera portano la terra portano le maglie sporche magari possono portare questo disagio qualche sbucciatura però poi ci ritornano una volta successiva e quindi per noi è una costa soddisfazione dal 67 siamo a Sulmona con i vari presidenti con le varie attività poi quest'anno negli ultimi anni abbiamo avuto una pandemia che bene o male ha bloccato un po' l'attività sportiva giovanile a tutti i livelli a tutti gli sport non solo in regga anche se noi meno male abbiamo fatto un'attività via zoom abbiamo fatto dei corsi insomma tutto sommato non siamo stati adesso ricominciamo con l'attività agonistica sperando di ripartire col piede giusto la dirigenza lodevolmente ha sempre prestato molta attenzione ai giovanissimi a partire dagli under 10 i tesserati non sono solo di Sulmona ma dell'intero comprensorio peligno proprio in virtù di questa dedizione alle giovani leve il club ha organizzato spesso tornei giovanili il caso di sottolineare l'obiettivo sociale dell'associazione promuovere la bellissima disciplina sportiva che è il rugby allo scopo di proporire la crescita come dicevamo ed anche la socializzazione di bambini e ragazzi di generazione in generazione quell'anno scorso abbiamo fatto solo un'attività giovanile un'attività del 19 quest'anno l'obiettivo è fare la prima squadra faremo un campionato di serie C faremo una senior femminile più il 17 femminile come l'anno scorso e tra varie come società a livello regionale siamo presenti abbastanza bene noi abbiamo Giovanni Forcucci che è il responsabile coni fiduciario coni provinciale per il rugby e da questa settimana c'è Giuliano Bianchimani che è il nuovo responsabile del settore femminile per la provincia dell'Aquila quindi anche a livello di riconoscimenti a livello federale siamo ben ben accolti praticamente quindi abbiamo dei riconoscimenti che gli altri ci fanno l'associazione dispone di una valida struttura noi quest'anno per un accordo con il comune il comune nella persona del vice sindaco Franco Casciani e del dirigente Raulli ci hanno chiesto di poter usare il campo dell'incornata come stazione di arrivo dell'eliporto immediatamente gli ho detto ok facciamo sono perfettamente d'accordo anche se poi noi andiamo avanti con una diatriba di una concessione aggiudicata ma il comune non ci vuole dare la determina nonostante ci abbia chiesto di pagare quelli che sono gli oneri per la concessione i motivi che ci hanno preapposto non sono giustificati secondo me e quindi stiamo ancora in attesa anche perché saremmo visto gli ultimi bandi dati per la piscina per lo stadio comunale saremmo l'unica società che ha fatto si è giudicata una gara pagando perché noi saremo gli unici a pagare mentre le altre parti pagano gli altri pagano però vanno a scalare sul contributo comunale quindi prendono meno contributo noi andiamo a pagare noi abbiamo deciso sì ok a noi ci sta bene comunque perché noi lavoriamo noi siamo di Sulmona lavoriamo per Sulmona e ci piace che Sulmona quando noi andiamo in giro portiamo i bambini che noi noi portiamo avanti il nome di Sulmona per noi a fare dei sacrifici anche economici ci sta bene proprio una scelta mia di tutto quanto lo staff del Sulmona questo a livello come in maglia prima di chiudere vi ricordo anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie davvero tutto per questa edizione grazie per aver scelto Onda di G che come di consueto torna domani a tutti una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.